ciao ragazzi ho fatto un piccolo video di come mi vesto questa settimana la maggior parte dei capi di zara quindi nulla di super costoso magari abbinato a qualche scarpa un accessorio un pochino più caro sono abiti che indosso quotidianamente nulla di ricercato alcune cose sono della collezione in corso e altre invece sono pezzi super scontati cerco per quanto possibile di mettervi il link nella descrizione del video per questo primo giorno ho scelto un jeans di zara vintage slim una maglietta di golden goose bianca con una scritta una sovracamicia di e cnm e delle scarpe di valentino gli occhiali sono di tom ford per questo altro look jeans sempre di zara loose fit sfrangiati in fondo una maglietta di zara con una tasca enorme la sovracamicia di zara che si può tenersi aperta che chiusa e scarpe golden goose altro look con jeans di zara maglietta deus ex machina scarpe common project occhiali sempre di tom ford e la felpa è del colore dell'estate e della primavera ghi e cnm ancora jeans zara tra i miei preferiti maglietta ancora deus ex machina stavolta bianca con un giubbino di zara di qualche collezione fa con all'interno il pelo scarpe totalmente bianche adidas stun smith con queste temperature primaverili mi viene voglia di mettere solo maglietta e giacca o giubbino jeans e maglietta sono ancora di zara il bomber di urban outfitters di qualche collezione fa scarpe adidas ultra boost comodissime occhiali raiban jeans maglietta e felpa total look zara delle scarpe golden goose occhiali i miei preferiti tom ford un look per una giornata un pochino più calda jeans maglietta e cintura di zara scarpe golden goose occhiali da vista di tom ford per la mia corsa mensile total look nike comodissimo ad eccezione delle scarpe che anche qui preferisco le adidas ultra boost uncaged sono più morbide e delle cuffiette apple airpods che si chiede a tutti